Francesca Inauri Francesca Inauri, una delle due protagoniste del film Il Richiamo, interpreta una donna che ha un'altra donna. È un personaggio difficile da interpretare in Italia? Non credo che sia il film che parla di una donna che ha un'altra donna, quindi già chiarisco questo. È un film sull'amore e l'amore non dovrebbe essere definibile dentro una categoria. Sono due donne eterosessuali, se dobbiamo darne una definizione, che si incontrano in un periodo di estrema fragilità da parte di una nella sua vita in cui l'altra si trova per casualità ad essere specchio e sostegno. Quindi questo rapporto sconfina dentro un contatto più profondo che può essere un contatto fisico, ma non è un film che parla di un amore omosessuale. E non per questo voglio dire che sarebbe brutto se fosse un film che parla di un amore omosessuale. Penso che dovrebbe essere normale dire che è un film d'amore, indipendentemente da quello che coinvolge. Però in conferenza stampa lei ha detto che in Italia parlare di amore lesbico è più difficile che parlare di un amore tra uomini. Perché se questo avvero accade? Io lo ritengo vero, nel senso che credo che sia così. Nel senso che per esperienza diretta ho fatto per quattro mesi in teatro uno spettacolo dove spesso veniva pronunciata la parola lesbica o si parlava anche in maniera molto leggera di questo. E la sensazione era sempre che il pubblico avesse una sorta di irrigidimento. Ripeto, in conferenza stampa io ho detto una cosa in cui credo. Forse perché culturalmente l'omosessualità maschile è stata sdoganata la reiterazione del messaggio, del concetto, la presenza degli omosessuali uomini in televisione o il cinema gay. È stato culturalmente più potente o più reiterato il messaggio. Si fa ancora molta fatica, forse si tende a concentrare o chiudere il rapporto lesbico dentro la fantasia erotica maschile, morbosa o comunque qualche cosa che anche la donna ritiene, faccia parte di un immaginario erotico maschile. Forse proprio perché l'uomo si sente più impotente di fronte a due donne che non hanno bisogno di lui. E quindi per contenere, comprendere questa cosa, comprenderla, proprio capirla nel senso di capere, contenerla, la relega a fantasia sessuale. Ovviamente essendo amore è qualcosa di estremamente più potente. Il suo personaggio sembra lontano anni luce dal modello Veline e Compagnabella di questi anni. Perché si veste in modo variopinto, non segue gli schemi. E quindi è così e questo modello è ancora imperante tra le ragazze in Italia? Purtroppo penso di sì, nel senso che si dà molta importanza a un certo tipo di estetica. Credo che abbiamo creato, ma questo è anche un risultato della crisi non soltanto economica, ma anche socioculturale, il fatto che si sia più insicuri e quindi la legge del branco valga di più e quindi l'assomigliarsi, come quando invece hai 8, 9, 12 anni, allora hai bisogno del branco ed è sano ed è giusto che ci sia. Volere essere uguale all'altro è un principio sano. Per essere se stessi si parte, si apprende per imitazione, chiaramente. Quindi è normale ed è giusto. Il problema è che si è alzata la soglia di età in quale uno vuole sentirsi uguale agli altri, perché c'è un'insicurezza e una carenza di valori morali, culturali, di base, per cui questo fa sì che il bisogno di sentirsi protetto dall'essere uguale agli altri è aumentato e il modello è quello che viene proposto dalla società. Però il suo personaggio è molto diverso da questo? Il film si svolge in Argentina, quindi questo aiuta. I personaggi, anche se sono due donne italiane, comunque risentono potentemente dell'ambiente che le circonda. Quindi è una multiculturalità quella che viene rappresentata dal film. È anche un esempio di globalizzazione vera, di universalizzazione del messaggio, dei luoghi, dei posti. Non importa, potrebbe svolgersi in qualunque posto, si svolge lì, ha i colori di quel luogo lì. Però è chiaro che quella componente di Lea è qualcosa che la rende fuori dagli schemi, la rende in qualche modo straordinaria, è quello che colpisce anche Lucia di lei, probabilmente. I taviani hanno vinto il Davide Donatello con l'eccellente Cesare deve morire. Il cinema italiano, la cultura italiana, deve ancora e di nuovo affidarsi a degli ottantenni? Io credo che il cinema italiano e la cultura italiana abbiano bisogno di sincerità. Che si sia un po' perso questo. Quel film è potente ed è vero non perché l'hanno fatto degli ottantenni giganteschi, ma perché contiene un elemento di sincerità estremamente potente, che è nelle persone che lo hanno fatto, cioè nei non attori, attori guidati da due persone così alte come i taviani. Però è quello a volte, si è troppo preoccupati del messaggio che si vuole dare, del pubblico che lo deve ricevere, del modo in cui lo si deve dare. E a volte si perde un po' l'urgenza di quello che si vuole dire, la sincerità di quello che si vuole dire, cioè il nucleo vero di quello che è. Forse questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno.